Ok, partito. Dottor Battisti, un'operazione importante da parte della squadra mobile della costura di Novara con la cattura di questa persona, un soggetto a dia poco potenzialmente pericoloso. Certo, parla chiaro il capo di imputazione che è strage. Il soggetto lunedì aveva creato un ordigno rudimentale, l'aveva piazzato nel proprio alloggio a Fiugi e la bomba sarebbe dovuta detonare facendo esplodere l'intero condominio alle 10 del mattino. Per pura casualità un vicino aveva sentito odore di gas e aveva allertato il commissariato di pubblica sicurezza di Fiugi che era intervenuto, aveva messo in sicurezza l'area e aveva immediatamente avviato le indagini. Con un stretto raccordo col commissariato di Fiugi siamo riusciti mercoledì pomeriggio a intercettare a trecate il soggetto, l'autore di questo gravissimo delitto. Durante la perquisizione domiciliare abbiamo rinvenuto un vero e proprio laboratorio perché il soggetto era molto abile con le mani e quindi sicuramente aveva le competenze tecniche per creare un ordigno rudimentale con potenzialità micidiali. Si è anche potuto appurare che il soggetto patisce di manie di persecuzione e in particolare il momento del gesto è da ricondurre a dei dissidi di vicinato che avrebbero indotto il soggetto a decidere di far esplodere l'intero condominio. Dissidi di vicinato che a quanto ha riferito agli operatori di squadra mobile intervenuti sono presenti anche a Tornaco dove il soggetto aveva un'abitazione il che ci fa supporre che il soggetto avrebbe potuto compiere un delitto della stessa specie anche qui in provincia di Novara.